Questa mattina per presentarvi un prodotto devo leggermi 10 righe, ho provato 5 volte a dirlo a memoria ma è 5 volte che non riesco a dirlo. Ci sono pochi prodotti che rappresentano DSV e il suo titolare meglio di Thomson. Spesso nella vita ti dicono di non bollare. Ecco, per me Thomson è stato questo. L'ho visto per la prima volta 15 anni fa, ma a quel tempo un altro distributore è stato più bravo e più veloce di me e l'ho preso lui. Poi dopo diversi anni Thomson ha deciso di cambiare, ma io a quel tempo distribuivo Easton che aveva a sua volta problemi con Thomson e non sono riuscito per la seconda volta ad averlo. Due anni fa, dopo un lungo inseguimento finalmente Thomson ha deciso di lavorare con DSV. Per severanza, non arrendersi, convincere le persone che i giudizi su di te sono sbagliati, questo è quello che è per me Thomson.